NAPOLI CENTRALO 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 non c'è stato un uno stacco un passaggio mi sono semplicemente ritrovato in un altro posto praticamente mi trovai in questo prato che poi in realtà esiste davvero cioè quel posto che ho visto esiste nella realtà ed è praticamente il prato che c'è davanti casa dei miei nonni materni in pratica era come se fosse l'erba fosse fatta di luce difficile da spiegarlo però era luminoso ma non accecante allora mi ritrovo per questo prato inizio a camminare sono tranquillo non ho paura è come se in qualche modo comunque sapessi di stare al sicuro in lontananza c'è una specie di collinetta da questa collinetta veniva una luce come se fosse una specie di aurora boreale che si muoveva pulsava ed era di colore tra l'azzurro e il bianco detto così ma in realtà è difficile anche di trovare le parole giuste per spiegarlo mi incamminai verso questa collinetta a un certo punto alla mia sinistra c'era un uomo che mi prese la mano nella sua mano quindi con la sua mano a testa mi presa la mia mano da bambino piccolo e mi presa la mano ancora oggi mi ricordo di vederlo alla mia sinistra ma era più alto di me ero bambino quindi vedevo praticamente la mia mano nella sua mano non lo stavo guardando in faccia però sapevo che era mio nonno materno Mario che non ho mai conosciuto a dire la verità però era lui sicuramente era lui è come se in qualche modo ci fosse un ampliamento della conoscenza per cui non c'è bisogno di spiegare di raccontare sai già tutto e andiamo assieme verso questa questa collinetta inizia la salita lui mi lascia però la mano e va da solo su questa collinetta verso questa luce e io in pratica come si dice Roma stavo rusicando cioè volevo andare con lui e in qualche modo mi disse ma senza utilizzare comunque parole forma diciamo di sentimenti che in qualche modo ti danno un'idea la definiremo telepatia e praticamente mi disse che ancora non era il momento che ancora non è il momento come lui si iniziò a incamminare per questa collinetta io mi ritrovai nel letto di mia madre col medico che stava parlando con mia madre mi stavano prescrivendo farmaci ricovero non è un po' che stava parlando con mia madre mi stava parlando con mia madre mi stava parlando con mia madre e le miei stavano prescrivendo farmaci ciao mi sono svegliata ero nella stanza dell'ospedale vedevo esattamente il mio corpo sul letto sapevo che era il mio corpo io ero in cima al soffitto e la sensazione enorme che ho avuto meravigliosa devo dirti il senso di gran libertà finalmente cioè libera da quello che era il mio corpo che era sul letto e ero lì che oscillavo proprio mi dondolavo e guardavo giù e vedevo i medici, gli infermieri che erano intorno giustamente a quello che era il mio corpo la cosa straordinaria non solo potevo sentire tutti i discorsi che facevano fra di loro ma potevo anche leggere nelle loro menti cioè quello che loro pensavano e questo lì per lì non mi sembrava assolutamente normale quando poi mi sono risvegliata e ho riflettuto ho capito che era stata una cosa straordinaria ma potevo anche vedere attraverso le pareti io vedevo il giardino dell'ospedale attraverso la parete quindi i miei sensi erano assolutamente dilatati diversi all'improvviso la stanza dell'ospedale è sparita e mi sono trovata in un tunnel dove andavo volando devo dire a grande velocità a un certo punto mi sono trovata davanti questa luce questa luce è difficilmente spiegabile con parole umane era una luce piena di vita pullulava di vita pullulava di energia quella luce mi sono avvicinata a questa luce e questa luce piano piano molto dolcemente ha cominciato prima ad abbracciarmi e poi ad entrarmi dentro e più questa luce mi entrava dentro più io sentivo questo enorme amore che mi pervadeva mi circondava e mi pervadeva io potevo essere tutto sentivo tutto in quel momento ero l'erba ero il legno ero tutto quello che esisteva ero ovunque non c'era più il luogo o il tempo ero ovunque a un certo punto ho avuto la consapevolezza che non potevo restare credo che in quel momento la mia anima abbia ululato di dolore è stato un dolore terribile la cosa che mi ricordo dopo è di essermi come svegliata avevo dolori da tutte le parti ho capito che ero rientrata nel mio corpo e ho iniziato a piangere e ho capito che ero Giugno 2004, ore 12.30, PG, anni 60, ieri 28.06, arresto cardiorespiratorio per infarto inferiore. Ci racconta di essere stato in paradiso e di aver incontrato la sua mamma, questa è la prima che è stata fissata sulla nostra agenda. Luglio 2004, ore 18, FC, anni 52, giunge in pronto soccorso per un arresto cardiocircolatorio, rianimato per 15 minuti, con esito positivo. Ci confida un'esperienza fantastica, il suo corpo era fuori dal corpo, ha visto tutti i momenti della RCP, la rianimazione cardiopolmonare, descrivendo nel dettaglio i nomi dei prodotti farmacologici. Ma, questo è stato il mio commento, ma, perché ancora c'era fascino ma incredulità. Mi sono avvicinata al fenomeno dell'NDE dopo aver lavorato diverso tempo in un reparto di terapia intensiva. È iniziato per gioco, non è carino da dire, però è iniziato per gioco. Abbiamo cominciato, quasi con ironia, a chiedere ai pazienti sopravvissuti all'arresto cardiaco se fossero entrati in un'altra dimensione. Prima erano delle semplici confidenze, poi sono diventate delle vere e proprie interviste a pazienti che erano disponibili nei nostri confronti. Parlare con un medico ti dà delle spiegazioni scientifiche. Noi siamo molto più aperti, siamo più umani nei confronti del paziente. Non c'è questo distacco e anche il paziente stesso lo avverte, avverte la disponibilità a parlare di certe cose. Ero sul lettino operatorio, mi sono vista alzare, non è che camminavo, ero sospesa. Ero sopra un mobile, in alto, e da questo mobile vedevo giù la luce della sala operatoria, quel lampadario enorme, e tutti i medici sotto che discutevano animatamente. Ho visto che c'era una porta, l'ho aperta e sono uscita, sono uscita da questa stanza. Avrò fatto un passo, due, non di più. E poi ho cominciato a volare, a volare come nei cartoni animati proprio. Roteavo e andavo avanti, ma andavo forte, andavo fortissimo. E da lontano si vedeva un puntino bianco, piccolo, piccolo. Ma io andavo così forte che questo puntino si avvicinava, si avvicinava. E sono arrivata in cima a questo tunnel, c'era una luce incredibile. Quella luce lì, in questo mondo qui, non c'è. Io scavalcavo per andare di là. Sapevo cosa lasciavo qua. Io ero consapevole. Però andare di là era una cosa che mi attirava molto. La pace che ho sentito di là è una cosa incredibile. Avevo già scavalcato con una gamba, però dovevo passare l'altra. Non ho sentito voci, non ho sentito niente. Però qualcuno mi ha tirato per un piede. forte, gli ho provato a scalciare perché proprio volevo stare di là. E niente, mi sono svegliata un bel po' di ore dopo, nel letto, arrabbiata. Il voce l'unica è into Grazie a tutti 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 Un esempio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie 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 a tutti E a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E 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 a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti